www.costamarinapeschici.it 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 Sicuramente la mia condizione fisica sta migliorando, inizio a stare anche un po' meglio e si vedono già i primi risultati. Sì, nella partita col Como ho fatto una buona partita, un buon primo tempo sicuramente, secondo tempo pelo calato dovuto anche a una condizione fisica, anche dopo una partita dispendiosa con la Juve. Sì, è stato molto bravo il portiere del Como a fare l'intervento e comunque io credo che si sia notato che siamo in netta crescita in queste ultime partite come gruppo e adesso vediamo le prossime partite come andranno. È cambiato molto lo schieramento in questi mesi, sia con Gaburo sia con D'Agostino. Avete cambiato da difesa 4, difesa 3, 3-5-2, 3-4-3. Per uno che fa il tuo ruolo cambia parecchio dal punto di vista di ciò che deve fare in campo. Sì, sicuramente giocando a 4 credo che sia il terzino sia il mio ruolo migliore, nel senso che comunque richiede molta fase difensiva e ogni tanto fasi di spinta e risponde alle mie caratteristiche. Invece nel ruolo di fare il 3-4, fare il quarto di destra è un ruolo molto dispensivo, nel senso che si corre molto e richiede anche qualità sia difensive che offensive, che ovviamente magari offensive non sono proprio la mia portata. Posso comunque colmare tutto ciò con tanta corsa che aiuta sicuramente la squadra in entrambi le fasi. La Carrarese la conosci direi giusto un po' bene, così dato che giocavi lì l'anno scorso, una squadra sicuramente che dà la cintola in su tanta roba, però ha dei però. Allora, li conosco davvero bene perché l'anno scorso è stato un anno direi fantastico e conosco anche l'allenatore, un allenatore che gioca sempre per far gol, quindi proiettato in avanti. E questo è la loro forza, ma anche tra virgolette la loro debolezza, perché magari a volte sbilanciandoti troppo vai poi a concedere magari delle ripartenze o dei contropiedi. Poi per quanto dire la Carrarese si sa quanto sia forte come giocatori davanti, Tavano, Maccarone, Caccavallo, Valente, giocatori forse di un'altra categoria. Vabbè, Tavano e Maccarone si sa, però fa la differenza tutt'oggi. Con che spirito ci andate allora, Carrare? Credo che quello della Juventus, del Como, sia il simbolo del nuovo gruppo che sta nascendo. Ognuno gioca per il compagno, ci si dà sempre una mano tra di noi e questo alla lunga sicuramente sarà l'arma in più. singolarmente, secondo me, io lo dico dal primo giorno, siamo una squadra forte. Bisogna a questi ingranaggi farli funzionare meglio e darsi sempre una mano, che alla lunga premiano, come abbiamo visto con Juventus, Como, che sono partite che non abbiamo mai bollato fino all'ultimo minuto e infatti siamo stati premiati. Grazie, Lorenzo, buon lavoro. Grazie mille.